Con l'arrivo di Ivan Marconi il Palermo definisce il blocco dei centrali da affidare alla guida di Roberto Boscaia. Per la prossima stagione il difensore bresciano classe 1989 arriva in Sicilia dopo un anno e mezzo tra le fila del Monza. Con i Brianzoli ha appena conquistato la promozione in Serie B. In questa stagione 13 volte in campo e un gol. In Serie C esperienza da vendere nella terza serie Marconi che è un centrale puro ma all'occorrenza può giocare anche a sinistra. Ha collezionato 150 presenze. A Cremona ha timbrato il cartellino 26 volte anche in Serie B. Insomma un profilo di assoluto spessore per la categoria che si aggiunge ad un reparto che vede in rosa Giaccrivello, Lancini, Accardi e Peretti. La difesa sarà completata dall'arrivo di Alberto Rizzo terzino sinistro classe 1993 in uscita dal Cittadella che ha già conosciuto mister Boscaia nella sua esperienza a Trapani e da un terzino destro. Si lavora poi a fari spenti sui profili necessari a centrocampo in attacco. Il nome di Mazzitelli continua a far sognare i tifosi rosa-nero ma la trattativa che c'è e prosegue non è per nulla facile. Il centrocampista di proprietà del Sassuolo nella scorsa stagione allenato da Boscaia alla Virtusentella tentenna perché spera di trovare nuovamente spazio tra gli emiliani in Serie A. Così come Stefano Pettinari, reduce da una stagione strepitosa a Trapani che ha già incassato diverse offerte dalla Serie B. Intanto oggi al via il primo ciclo di tamponi per l'intero gruppo formato da calciatori e staff. In 45 si sottoporranno i test effettuati dal personale dell'ASP6 e dell'ospedale Villa Sofia Cervello. Una volta accertata la negatività di calciatori e staff per tutti arriverà il via libera per la partenza e il ritiro che prenderà il via lunedì a Petralia Sottana.